Mi chiamo Don Giacomo Capraro, postulatore dalla causa di canonizzazione del beato Don Giustino Russolillo, la cui reliquia è qui sull'altare. Evi nacque a pianura di Napoli 18 gennaio del 1891 e Evi morì il 2 agosto 1955. La sua vita è stata tutta protesa verso l'unione divina con la Santissima Trinità, per la santità sua e per tutti coloro che incontrava e proprio per questo si è impegnato a servire le vocazioni, perché ordinariamente la santità viene realizzata con l'aiuto e la forza dei sacramenti. Oggi pianura di Napoli, diocesi di Pozzuoli, ma anche i tre istituti da lui fondati come tutta la Chiesa, i sultano perché il Santo Padre Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto sul miracolo attribuito all'intercessione del beato Giustino Russolillo. Lodiamo il Signore per questo bellissimo evento. Il miracolo è stato operato del Signore a favore di un giovane religioso vocazionista, guarito da una crisi respiratoria acuta in uno stato gravissimo di epilessia, poi un coma molto profondo e una gravissima rabdiomiolissi. Un religioso poggiò sul suo corpo un'immagine del beato e dopo tre giorni il giovane improvvisamente esce dal coma. Si alza, gli organi funzionano alla perfezione, gli arti superiori e gli arti inferiori sono in perfettissime condizioni e in poche ore si mette a servire anche gli altri degenti nell'ospedale di Pozzuoli. Il ringraziamento a Dio Trinità va anche per le numerose missioni in cui sono presenti i padri vocazionisti e le sue revocazioniste oggigiorno. Siamo in 18 nazioni. In vita quest'uomo di Dio ha sofferto molto perché ci sono state tante incomprensioni, soprattutto quanto si è impegnato alla riabilitazione di coloro che avevano lasciato il sacerdozio. Molti sacerdoti di oggi come i di ieri ringraziano quest'uomo di Dio perché col suo aiuto sono riusciti ad essere sacerdoti e a seguire così la vocazione ricevuta dal Signore.